Oggi vediamo come faccio a realizzare questo tipo di dipinto qui, che cosa vado ad utilizzare, che cosa vi serve, eccetera. Partiamo dal presupposto che non me l'ha insegnato nessuno, quindi sono un po' andata a sentimento. Prima cosa che vi servirà è una tela semplicissima, io di solito le prendo al negozio dei cinesi. Seconda cosa ovviamente è la tempera del colore che più vi piace e qualche pennello, giustamente. Anche quelle le potete reperire al negozio dei cinesi, se invece volete qualcosa di più professionale ci sono appunto i negozi apposta che vendono proprio cose per la pittura. Dilemma del filo. Allora io vado a stampare semplicemente l'immagine che voglio fare sulla tela. Ci faccio tutti i buchetti seguendo la linea, con un ago da cucire semplicissimo e poi utilizzo sempre filo da cucire molto semplice. E quindi questo sarà il vostro risultato.